Vi confesso che non ho mai amato il gusto dello yogurt, fino a quando non ho assaggiato quello fatto in casa. La ricetta è facilissima e ne vale davvero la pena. Per prima cosa dobbiamo scaldare il latte, assicurandoci che non raggiunga mai il bollore. Io preferisco dolcificarlo con un cucchiaio di zucchero, ma questo è un passaggio del tutto opzionale. Quando il latte sarà caldo possiamo aggiungere i fermenti. Vi consiglio di mescolare molto bene con una frusta in modo da evitare la formazione di grumi. Per rendere il latte ancora più gustoso, generalmente aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, ma anche questo è un passaggio che se volete potete evitare. A questo punto versiamo il latte nei contenitori in vetro. Vedrete che gli ultimi due hanno un colore più scuro perché sono andata ad aggiungere del cacao in polvere, ma vi consiglio di aggiungerlo solamente se amate il gusto del cioccolato molto forte. Ora mettiamo i barattoli nella yogurtiera e li lasciamo riposare per circa 8 ore. Per questo motivo io di solito li preparo alla mattina o alla sera. Trascorso il tempo necessario possiamo estrarre i barattoli, farli raffreddare e guardirli con quello che vogliamo. Io in questo caso ho aggiunto della composta di frutti di bosco, delle scaglie di cioccolato e della frutta secca, ma voi potete sbizzervirvi. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, se è così iscrivetevi al canale, lasciatemi un like e ci vediamo alla prossima ricetta! Grazie a tutti!